Limitare i disagi ai passeggeri che dal 5 novembre al 5 dicembre prossimo dovranno atterrare o decollare da Fontana Rossa chiuso per lavori di rifacimento della pista. Questo è l'obiettivo del Vademecum stilato dalla SAC. La società catanese comunica intanto che a cambiare sarà solo la pista di decollo e atterraggio, che per 30 giorni sarà quella di Sigonella. Per le partenze occorrerà presentarsi al check-in del terminal Fontana Rossa tre ore prima dell'orario di partenza del volo. Le operazioni di accettazione si chiudono 90 minuti prima dell'orario di partenza. Dopo il passaggio ai barchi di sicurezza e le eventuali operazioni di dogana e frontiere, i passeggeri verranno trasportati a bordo di bus navetta nella base di Sigonella. Non è consentito l'accesso autonomo a Sigonella da parte di passeggeri o eventuali accompagnatori. All'interno della base non è consentito inoltre fare foto, riprese e video. I trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto dal codice penale. Per gli arrivi i passeggeri che atterrano a Sigonella invece sbarcheranno a Fontana Rossa dopo circa 60 minuti. Il tempo stimato per consentire le operazioni di sbarco e percorrenza dei bus navetta dalla base militare allo scalo Etneo. I bagagli verranno invece ritirati a Fontana Rossa. I passeggeri visabili a ridotta mobilità potranno contare come sempre su mezzi di trasporto speciali che in anticipo rispetto agli altri viaggiatori li condurranno a Sigonella per il preimbarco. I bagagli da imbarcare infine saranno consegnati al check-in mentre quelli a mano viaggeranno sul bus navetta col passeggero. Grazie a tutti.